...e... ...e... ...mettiamolo in adorazione... ...quì... ...i consiglieri ci vogliono mai notare... ...degli in mente... ...di avicolazione per tutti... ...e... ...l'acqua... 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 ...quale va... ...l'acqua... ...le metà lo vedo... ... quiser me... ... terminology... ... againing in a un'unità... ...allora.... ...ser senti ilmenì... ...ser senti ilmenì... ... fisicoliamo a crollare! ... ...ser senti ilmenì... ...식oliamo a crollare! ... ... ... Assessore, Assessore Casino, consiglieri che ci vogliamo rivolare. Allora, se vediamo nel momento che bisogna accelerare le votazioni, prego il codificio senzario generale di fare l'appello. Assessore Casparato, presente. Polizio, presente. Cavano, presente. Sposti in Orlando, presente. Sposti in Orsino, presente. Monaco, presente. Giordi di Sottotone, presente. Cattuccio, presente. Mileto, presente. Musca, presente. Cuccio, presente. Andiamo, presente. Laenza, presente. Tattamo, presente. Sottio, presente. Chiesa, presente. Per l'Aramato, presente. Per lune, presente. Per lune, presente. Bene, presente. Triste, presente. Cuccio, presente. Cattuccio, presente. Per l'Aramato, presente. Abbiamo un po, due cani, un po, due cani. Sottocchio, presente. Metto in votazione il primo emendamento presentato dall'Udc. 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 No, no, no. Scusate! 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 Metto in colazione il testo è il talento presentando dal primo termine del obiettivo e sottossogredito nel programma del seguito basso la donna Il broccio della rete aree di irritare ci libero c'è il sistema del talento E il sbaglio Ssecuito è un sacco addosso vedo Poi è bello V Grazie a tutti. 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 a tutti.